non puoi stare incastrato in un modello in un modo di fare le cose e neanche una postura e neanche una postura devi fare in modo simmetrico oppure opposto nel senso di fare il tuo modo di fare psicoterapia mi sorprende perché pensavo che fossi molto più strite sulla strite edgico e invece già quando mi avevi detto che ti eri interessato alla fototerapia, interpreti i sogni, che cazzo funziona funziona mi piace io non interpreterai mai i sogni ad oggi poi vengo dalla tradizione junghiana quindi un po' ne so però non è importante cioè non è giusto ok deve funzionare deve essere utile poi non è vero perché ogni tanto mi ria qualche persona che mi chiede e se è funzionale come dicevano già Wickland e colleghi posso usare l'interpretazione se mi è funzionale come ristrutturazione all'interno della seduta non come interpretazione psicodinamica del conflitto o quello che è di solito dico così durante il sogno quello che durante il sonno scusate anzi scusa perché loro non ci sono durante il sonno quello che accade è che il corpo si rigenera ok le nostre cellule accade questo ok tant'è che le persone che dormono poco hanno la pelle che invecchia più facilmente ok quindi il sonno è legato all'auto riparazione e se i sogni non fossero nient'altro che un tentativo che il nostro cervello fa per auto ripararsi ok i sogni sono storie che il nostro inconscio produce per auto riparare se stesso soltanto che spesso non ci riesce ok e allora se tu riesci a decriptare il significato contenuto nel sogno riesci a far sì che il sogno arrivi fino in fondo ok e quindi di solito nell'interpretazione uso dei miei codici in particolar modo descrivo sempre ci sono due tipi di sogni uno descrittivo e uno risolutivo e quindi un sogno in cui che descrive le tue trentate soluzioni descrive il tuo mondo descrive i tuoi temi costanti ci sono anche dei sogni con dei proposti di soluzione che l'inconscio ti sta facendo e di solito ci azzecca ok quindi aiuto le persone a codificare queste e anche l'uso la simmetria la simmetria rispetto all'interpretazione del paziente una cosa classica che si fa quando si sogna è pensare che tu che sei dentro il sogno sei te stesso no in simmetria di opposti c'è no tu non sei il te stesso nel sogno tu sei l'altro tu sei il gatto nero che hai sognato tu sei un oggetto che è presente nella scena tu sei un altro personaggio presente nella scena del sogno tu non sei te stesso sei l'altro che questa è simmetria di opposto cioè questo funziona certo e gli dici ok il gatto nero che hai visto che cosa ti direbbe se tu gli dessi il microfono che cosa che messaggi ti darebbe e vengono fuori cosa molto interessante che velocizzano la terapia la brevità dove sta adesso nella tua terapia la brevità sta nell'uso delle quantità di parole che utilizzo anche se mai non sembra però sì cerco sta nella quantità di minuti che passano i pazienti e sta nel numero delle sedute comunque è sempre un tuo focus sempre l'idea sono un terapeuta breve sì sì non un terapeuta che non vuol dire un terapeuta rapido un terapeuta veloce un terapeuta sbrigamo se l'efficienza è il motivo la natura funziona per efficienza ok perché una bolla è sferica perché potrebbe avere tutte le forme nel mondo perché proprio sferica perché la natura ragiona per efficienza cioè per il consumare meno energia possibile la natura funziona così e credo che la terapia breve sia la terapia che più si avvicina alle scienze naturali perché ragiona sul principio di efficienza che devi ottenere il massimo utilizzando il minimo perché devo farti un pippone se te lo posso dire con un aforisma mi piace mi piace mi piace mi piace perché oggi l'abbiamo detto più volte anche qui rimetti come terapeuta al tuo servizio e quindi al servizio della terapia al servizio della persona quello che ti è utile togli la verità togli l'idea e no devi fare così perché è vero perché è è questa la cosa da fare e rimetti invece al centro il devi fare questo perché funziona e se interpretare i sogni o se la teoria dell'attaccamento o le mdr o l'ipnosi funziona con un asterisco che ora dico lo uso l'asterisco è ovviamente la brevità in questo senso certo che funziona l'interpretazione dei sogni da freud funziona però se nella maniera psico da prima si pensavo nell'ambito della psicoterapia come la intendiamo oggi se nell'ambito della psicoanalisi una meta analisi ci dice nel 2012 ci dice che la media durata la media è 150 sedute 200 sedute allora interpretare i sogni in quel modo poi non c'è solo interpretare i sogni 20 sto semplificando in quel modo non è efficiente se me ne porti un altro di modo che mi permette di passare da 150 a 10 a 7 a 15 ok la userò così la metto al mio servizio sti cavoli se qualcun altro dice è vero non è vero tant'è che puoi fare sera terapia strategica senza fare terapia breve certo e poi fare terapia breve senza fare terapia strategica ok se dovessi di pensare a me io penso di essere un terapeuta che fa terapia breve sì mi piace tu mi hai detto una cosa spostiamoci un attimo come ultima parte mi hai detto una cosa che mi è rimasta proprio impressa maestro gli aforismi ormai erano in macchina e tu mi dicesti il successo per me è già per te è il rapporto tra originalità e autenticità mi ricordo bene giusto me lo spieghi sulla tua pelle sulla tua vita come si è declinato come come sta andando allora ma dunque ognuno ha la sua definizione di successo bene quindi la mia definizione di successo beh realizzare il senso della mia vita questa è la mia definizione di successo come si sta declinando la tua vita in questo momento è troppo ampia l'ultima domanda poi c'è quella 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 standardizzata guarda non rispondo a questa domanda rispondo a quella sull'originalità e sulla sul saper mettere insieme la capacità di essere originale rispetto al mercato senza perdere la propria autenticità cosa significa essere autentico secondo me significa che ti rendi conto dove hai sbandato ok quali sono stati i drammi della tua vita e renderti conto che quei drammi ti rendono te stesso ok perché quindi lì c'è la tua parte più autentica per me autenticità significa anche talento e il talento non è una dote individuale ma è una dote interattiva interazionale cioè talento non è una roba che sai fare è una roba che a te riesce meglio degli altri e che autenticità dall'altro lato c'è il mercato l'originalità cioè diciamocelo un tempo era molto più facile vincere tra virgolette sul mercato più competitor ci sono e più è complicato va bene quindi tu puoi essere l'artista per esempio Magritte su questo per me è stato geniale lui a un certo punto lo conosce tutti Magritte ha fatto quadri meravigliosi tipo l'uomo con la bombetta con la mela davanti insomma calciatore del real che ha vinto un sacco di sì esatto bra proprio lui lui a un certo punto ha cambiato totalmente stile e ha iniziato a fare un nuovo stile che però non vendeva non vendeva e ha dovuto cambiare e tornare al vecchio stile perché quello vendeva ok cioè e questo per me è un insegnamento perché tu puoi essere il più origina il più scusa autentico del mondo il più talentoso del mondo ma se non ti realizzi nel sistema in cui vivi nell'ambiente in cui vivi nel mercato in cui vivi ti mancherà sempre un pezzo e allora devi saper mettere insieme queste due esigenze quindi originalità per me significa di nuovo simmetria degli opposti cioè cosa fanno gli altri esattamente fai l'opposto tu dici tutti facciano video io ho fatto i dialoghi scritti mi dici che serve il video le frasi brevi io ti faccio un post senza video e lunghissimo tu mi dici che le sedute devono durare un'ora e le faccio durare tre giorni tu mi dici che ok quindi io costantemente per me questo è una forma mentis divertente diventa un gioco poi non è detto che necessariamente questo comporti il successo ok o che l'attività funzioni non importa per me è sperimentazione se non sperimenti non sa neanche no le persone di successo non sapevano che avrebbero avuto successo prima di aver avuto successo no fino a molto ha portato da mondadori quindi insomma qualcosina funzionava tra le varie cose per esempio a proposito di successo c'è un aforisma di bernard show che è un altro dei miei supereroi insieme a darwin e lui dice ogni persona di successo si è alzata ogni mattina alla ricerca di un'occasione questo mi sembra molto indicativo ed è questo lato del tra chiamiamolo originalità mercato cerca un'occasione in cui realizzare la tua unicità originalità e il tuo talento ti vuoi fare mezzo milione di domande devo farti l'ultima parte qua pillole preziosissime da se si riesce a declinare questo se chi vede il video riesce a declinare questo secondo me a me è servito molto è servito mi ha dato molto su cui lavorare su cui raffinare anche by the way ultima domanda by the way l'ho usato in modo improprio perché non significa questo comunque sia immagina che ci sono gli psicologi che ci stanno ascoltando e tu gli vuoi dare un consiglio su un esercizio da fare nella vita di tutti i giorni che possa permettergli di allenare una loro competenza su loro talento la loro capacità o di scoprire qualcosa che poi gli sarà utile all'interno della psicoterapia della seduta delle sedute con i pazienti qual è il consiglio esercizio che gli suggeriresti eh allora dunque credo che sia imparare a unire come dicevamo prima nella presentazione capacità di scrittura con capacità di parola ok quindi imparare a parlare come scrivono e a scrivere come parlano cercando di far confluire le due cose ok cioè se tu vuoi diventare un bravo psicoterapeuta non devi parlare a caso ok cioè ogni parola deve in qualche modo avere questo lato sia espressivo di quello che sei però anche di efficacia ok quindi lo inviterei a stare molto attento alle parole che usa e non necessariamente tutto il giorno per esempio c'è James Penbaker che è stato il più grande analizzatore di la scrittura terapeutica lui si registrava aveva questo registratorino e si registrava le cose che diceva poi analizzava i propri discorsi ok quindi riscriveva ciò che diceva per cercare di auto allenarsi ma anche per analizzarsi ad esempio facendo così aveva scoperto che trattava suo figlio e sua figlia in maniera totalmente diverse sua figlia in maniera molto emotiva e suo figlio in maniera molto distaccata ok quindi suggerirei di andare in giro registrandosi ok trascrivere la registrazione e immaginarsi come avrebbe potuto dire quelle cose diversamente in modo tale che sia non solo espressivo ma anche utile per la persona con cui ha condiviso la serata la birra il caffè o una conferenza fantastico bello mi piace bene grazie mille grazie a te bene